Sicuramente è una festa in evoluzione, che vede nuove esigenze e sfida la città a nuove considerazioni e riflessioni. Quello che noi come associazione abbiamo fatto è una riflessione sull'accoglienza, un po' partendo dai valori che i nostri fondatori ci hanno trasmesso e un po' sul clima anche generale, che prevede comunque l'accoglienza come biglietto da visita per una città civile. Ecco perché nasce il progetto accoglienza nel 2011. Come si è evoluta la fiera e qual è l'impressione di quest'anno? Personalmente, ma anche come associazione, penso che ci sia bisogno di un'ancora maggiore accoglienza, fatta di ulteriori servizi, di ulteriori bisogni da soddisfare, che non sono solamente quelli del divertimento, ma penso che la fiera debba essere un momento propizio per riflettere su quello che come cittadini di morfetti essi siamo. Dacci un'impressione generale su questa fiera 2014. Vabbè, allora io sono appena arrivata, comunque c'è un sacco di gente, non ho visto molto servizio ad ordine, non so se si faccia normalmente, però in alcune volte l'ordine è fatto. Vabbè, comunque le luminarie si vede che si sono sforzati, ma niente di che, però una buona idea è stata quella dell'ostello in ogni caso, credo sia stata molto apprezzata da tutti, sia per la sicurezza, l'igiene e anche per le stesse persone che ci dormono. Un commento da chi viene da fuori questa fiera? È bella. Confonto con la vostra pressa patronale. È solo, io la verità non posso vedere perché è solo per questi barocchini che stanno. Praticamente, la fiera sì, però la fiera degli italiani, non dei marocchi, per me non è una cosa giusta, per me. Perché prima stavano più le cose nostre, un vestito, una cosa, ma adesso... Avere la fiera, la fiera perché? La fiera dei marocchi. Dica la verità, è lei a far piovere ogni anno durante la fiera, questo è il primo anno che fa male. Diciamo di sì, però non voglio rovinare la fiera, la festa perché è importante. Però se piovevo due gocciolini d'acqua all'ultimo momento, mi fresca la mare e vendevo la maniola. Carina, ma troppo grezza, troppo musica dal tuo volume. Allora siamo allo stello, un commento sulla fiera di quest'anno, come sta andando? Allora, qui allo stello sta andando molto bene perché vediamo un'ottima integrazione tra la cittadinanza molfettese e i nostri ospiti per quanto riguarda coloro che stanno con le bancarelle qui. E loro si trovano molto a loro agio perché riescono a trovare un posto molto più comodo rispetto ai precedenti anni quando erano costretti a passare la notte per strada. Quindi noi siamo contenti di stare con loro. Da quanti anni partecipa alla fiera? Da ventina. Ventina anni. C'è i slogan sempre straordinari. Quello più famoso, Creppa Kitamurt, com'è nato? Eh, abitò un po'. Una ragazza mi ha fatto, metti un po' di questo e un po' di quello. L'altro la fai, la linea dopo, qui Kitamurt me lo frega. Quella cosa mi è piaciuta e lo scatta. Straordinario anche quello di quest'anno. Un commento sul tema di quest'anno. Non c'è organizzazione. Non c'è organizzazione. E delle luminarie che ne pensi? Quella è bella. A te sono piaciute? Sì. No, ma perché c'è troppa musica? Non c'è ordine nella lavoro. Allora uno viene qui per lavorare. E tante volte ci rimetterebbe. Vabbè. Tutti i modi devono accampare anche loro. Però anche rimettessero in convenzione di operare. Perché così è chiaro che quando li fanno operare e fanno gli sbagliati. Molto fatto. Non era neanche colpa loro. E allora alla fine, domani, li aprezzano. Ci sto facendo via adesso. Un commento su questa fiera, le vostre impressioni? Beh, dall'altra l'abbiamo vissita poco. Comunque è sempre una bella iniziativa. Giusto per l'accensione delle luminarie. Ho visto che c'è stato qualche problema. Però può succedere. Quindi comunque è un evento che coinvolge tutta la città. Alla fine... Diciamo che è una stretta alla fiera per ritrovarsi. Un punto di incontro. Prego, vorremmo sapere delle impressioni generali riguardo alla fiera, questa festività, l'organizzazione. Finalmente l'organizzazione è stata un po' scarsa secondo me. Perché si è creato molto, diciamo, disagio per chi abita in questi punti. Per via del traffico, della confusione, eccetera, eccetera. Però la festa onestamente è bella. L'illuminazione è molto bella. Non approvo le fontane che sono state messe. Perché sinceramente non si vedono neanche. In quanto forse dietro ci dovrebbe essere qualcosa di scuro. Per far vedere il contrasto tra l'acqua e l'effetto che doveva uscire. insomma. Poi per il resto, tutta cosa. Qual è il ricordo più bello che ha della festa della Madonna di Marzo? Della festa della Madonna di Marzo? Quello è il ricordo più bello. E' quando arrivavamo a piccoli. È stata sembracchissima. Non è stato mai di... di diverso.